Antonio Sinopoli, per la prima volta ai microfoni di Lanciano Channel, oggi dopo una prestazione gigantesca tra i pali, uno dei migliori in campo nonostante il risultato di 5-1, peccato forse proprio per il gol sul finale. Sì, per il gol finale ho fatto un piccolo errore perché ho cercato il terzino e ho sbagliato il lancio alla fine. Nella prestazione penso che è venuta grazie a un duro allenamento durante la settimana, ma non solo da parte mia, ma anche di tutta la squadra alla fine. Sei giovane, come procede questo ambientamento a Lanciano? Tanti chilometri da casa però è come una famiglia. Sì, qua a Lanciano c'è già da luglio, barragosto, mi sono trovato benissimo, i compagni mi hanno accolto sin da subito bene, soprattutto anche la dirigenza, il presidente, mi hanno fatto sentire come a casa. La lontananza molte volte si sente, però alla fine poi ci prendi l'abitudine, ormai questa è casa mia. A 18 anni quali sono le aspettative per il futuro in maglia rossonera? Io spero di restare qua più a lungo possibile, poi alla fine si vedrà, il futuro non lo prevede nessuno.